Il futuro che questa amministrazione vede è in realtà il futuro nel quale siamo già immersi ma non ce ne siamo accorti. Si parla tanto di picco del petrolio nel 2050, ci sono stati nel mondo che hanno già bandito sostanzialmente le auto a benzina a partire dal 2025, 2030, 2035, l'ultimo mi pare in ordine di tempo è l'India, io credo che se parliamo di mobilità quello è il futuro e con la formula è noi vediamo e tocchiamo con mano un futuro possibile, noi dobbiamo inserirci in un solco che vede la sostenibilità ambientale di tutte le nostre scelte e in questo caso della mobilità come l'unica alternativa possibile. Permettetemi di allargare appena il discorso, la terra è la nostra casa, è un paese nel quale le risorse sono scarse, le risorse sono finite, per cui noi non possiamo puntare a uno sviluppo infinito e incontrollato, dobbiamo puntare a uno sviluppo che sia sostenibile e questo per noi è l'obiettivo che dobbiamo realizzare attraverso questa amministrazione e attorno al quale dobbiamo far ruotare tutte le attività, la mobilità, quando parliamo di rifiuti, in questo caso la formula E coniuga perfettamente quelle che sono le sfide che il mondo e la società ci pongono e soprattutto mi sembra che le stia vincendo, oggi ci hanno fatto vedere queste quattro macchine, ci hanno fatto vedere un motore che usato in gara può durare 25-30 minuti, ci hanno già detto che l'anno prossimo e quindi quest'anno le macchine dovranno fare un pit stop e i piloti dovranno cambiare macchina, l'anno prossimo la tecnologia ci consentirà e consentirà ai piloti di utilizzare una sola macchina, un solo motore, una sola batteria, questo vuol dire che la tecnologia fa dei passi avanti giganteschi ogni giorno, noi non possiamo considerare la città di Roma come un museo a cielo aperto, il museo rimanda a un elemento che è stato, a un passato che si deve osservare, no, Roma non è questo, Roma è una città che deve essere leader nel campo dell'innovazione, che può e deve aspirare a essere tra le grandi città che accolgono il futuro e che guidano questa rivoluzione, questo passaggio verso la sostenibilità e sicuramente la formula E è una grandissima occasione per dimostrare quanto tutto questo sia possibile e per rendere tutti noi più consapevoli del fatto che ad esempio le auto elettriche possono realizzare e avere delle prestazioni eccezionali, per cui come si diceva in effetti la formula E è un laboratorio, però tutte le innovazioni che vengono poi studiate e messe a punto in maniera millimetrica su questi bolidi poi vengono riportate e trasposte invece in quelle che sono le auto di massa e quindi eccoci, non potevamo non accettare questa sfida e abbiamo iniziato a lavorare con tutti loro da subito per riuscire a portare qui a Roma questo bellissimo evento che sa coniugare quindi un grandissimo evento sportivo di caratura internazionale e però tutto un concetto e un sistema e una visione di mondo che poi è la nostra visione.